Il corso Editore Ghostwriter nasce dalla necessità di rispondere con competenza e con alta professionalità a una richiesta del mercato in costante crescita. È un corso che si propone di dare una base di preparazione di vera qualità, non solo teorica, certo la teoria è importante, ma è molto importante l'aspetto pratico, è molto importante e questo è il focus di questo corso, che chi lo frequenterà possa apprendere un metodo di lavoro, quindi non solo un metodo per valutare il lavoro che ci viene proposto e quindi per capire quali siano i margini di miglioramento di questo lavoro o nel caso del ghostwriting come debba essere organizzato e strutturato, ma un vero e proprio metodo di lavoro sul testo, quindi estremamente pratico e questo riguarda tutti gli step che metterete in pratica nel momento in cui vi troverete ad affrontare un editing di qualsiasi livello di difficoltà o un ghostwriting, che sia il ghostwriting di articoli, di testi vari, ma anche di un libro, quindi quando si tratta di creare, come dicevamo, un vero e proprio libro. Mi sembra importante però riportare anche delle testimonianze di chi questo corso l'ha frequentato, di persone che sono comunque disponibilissime anche ad essere contattate da voi e a dare il proprio parere. Infatti ho chiesto loro di dare un parere in estrema trasparenza e di sottolineare però anche quali siano state per loro le difficoltà di questo corso, perché questo è un corso molto impegnativo, molto bello, un corso che richiede grande entusiasmo, ma anche grande impegno e quindi mi piace condividere con voi la testimonianza di chi questo corso l'ha fatto. Tra l'altro è un corso che ci tengo a dire, nasce nell'ambito di Accademia di scrittura. Accademia di scrittura è un'associazione che crescerà ed è una piattaforma di formazione, ma l'intento è quello di fornire una formazione di qualità sempre più alta e quindi vi lascio ascoltare le testimonianze di chi ha partecipato a questo corso, in modo che possiate fare la vostra riflessione e trarre anche tutte le vostre ispirazioni, i vostri pensieri necessari. Buongiorno Writers, io mi chiamo Federica e mi occupo di social media management, di copywriting, soprattutto in ambito SEO e di comunicazione in senso ampio. Il corso per editore e ghostwriter di Alessandra è davvero ricco di contenuti molto interessanti e lo trovo molto utile soprattutto a livello pratico. Sono Mariangelo Taviani, nella vita mia occupo di ricambi, della gestione di ricambi per una multinazionale, però quello che sento più appartenere a me è la parte dedicata alla scrittura. Io mi chiamo Katia Bovani, sono un editor, ghostwriter e scrittrice. Ho frequentato il corso editore ghostwriter di Alessandra Perotti, la prima edizione. Buongiorno, sono Angelica Giambiunca, sono giornalista professionista in ambito medico e scientifico. Questo corso mi ha aiutato tantissimo a migliorarmi come giornalista, come scrittura e è stata un'esperienza straordinaria con Alessandra Perotti che già conoscevo e perché ho venuto anche la possibilità di conoscere un gruppo di compagni straordinari, insomma, con cui spero di continuare questo percorso. Mi chiamo Elisa Crisci, sono segretaria alficio marketing di una casa editrice, sto frequentando il corso di editor e ghostwriter di Alessandra Perotti. Sono Paola Gaiani, scrittrice e responsabile di redazione di Accademia di scrittura. Durante il corso editor e ghostwriter mi sono occupata della parte dedicata alle recensioni letterarie. Abbiamo fatto una serie di esercitazioni pratiche che hanno portato tutte le partecipanti al corso a misurarsi in questa disciplina. Ciao, io sono Paola Cuppini, sono editor e ghostwriter. Faccio questo mestiere già da qualche anno, però sentivo l'esigenza di approfondire la mia formazione, di crescere e migliorare dal punto di vista qualitativo e quindi cercavo un percorso che mi potesse aiutare in questo senso. Quando ho trovato Alessandra è stata un'illuminazione, è stata anche proprio una scelta di affinità per come l'ho sentita e devo dire che ho trovato molto di più di quello che mi aspettavo. È stata veramente una bellissima esperienza. Alessandra ha il pregio di presentare questa bellissima attività, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista umano, che non va mai dimenticato, che però alla fine farà la differenza in quello che poi riguarda la professione. Il corso è impegnativo, prevede parecchie esercitazioni, ci vuole tanta passione e voglia di mettersi in gioco. Non c'è da lavorare veramente tanto, non sono ammesse perdite di tempo, bisogna impegnarsi e bisogna avere del tempo da dedicare. Alessandra è un coach a tutto tondo, nella scrittura, ma anche nel modo di approcciare alla professione. È un corso valido, ricco, stimolante e molto impegnativo. È stato più impegnativo di quanto potessi immaginare. Aggiungo una cosa importante, perché all'inizio non l'avevo capita. Quando abbiamo fatto il colloquio iniziale, Alessandra mi ha detto, guarda che devi avere il tempo perché c'è da lavorare, è una cosa molto impegnativa, professionalizzando e va molto impegnativa. Io ho detto, sì dai ce l'ho e comunque se non ce l'ho lo trovo. C'è da lavorare davvero, però c'è da dire che c'è moltissimo entusiasmo e quindi anche se bisogna fare uno sforzo in più, il desiderio di arrivare in fondo e di farlo bene è talmente tanto che si arriva in ogni caso alla fine con l'obiettivo raggiunto e con tante cose imparate. Bisogna anche essere preparati a gestirsi, a gestire i tempi, a gestire le difficoltà che non mancano, però sappiamo che se le difficoltà riguardano un ambito che ci piace, troveremo anche le risorse per affrontarle e risolverle. L'ho trovata entusiasmante come percorso formativo, molto molto impegnativo, ma perché il grado di preparazione che ha Alessandro è molto alto e quello che trasmette è un grado di preparazione molto alto e quindi richiede molto impegno. Io mi occupo di comunicazione nel senso più ampio del termine e questo corso mi sta dando la possibilità di migliorare tantissimo sulla scrittura e quindi sulla comunicazione scritta che faccio nei confronti dei miei clienti. Le difficoltà sono tante, io ho trovato molte difficoltà perché non sono una professionista, però mi sta dando tanti input in realtà anche per scrivere. Arrivati alla fine è qualche cosa in cui investire esistenzialmente in maniera inequivocale. Le aspettative sono molto alte, però i risultati poi si vedono ed è un arricchimento veramente prezioso, quindi lo consiglio sicuramente. È risultato arricchente e molto utile anche per me perché relazionarsi con le persone, soprattutto con quelle che hanno voglia di imparare, è sempre una bella esperienza per entrambe le parti. Io direi che è da fare. Il valore aggiunto secondo me è il ruolo di Alessandra che è un vero coach e motiva attraverso la sua passione chi vuole intraprendere questa meravigliosa carriera. Quindi buon corso se deciderai di partecipare. Grazie a tutti.